Oggi siamo qui a Fiera Didacta Sicilia con un convegno sulle competenze di base e il loro impatto nella costruzione della cittadinanza, di una cittadinanza piena e attiva. Questo perché sappiamo che vi sono dei divari territoriali nello sviluppo delle competenze di base. Le competenze di base sono quelle competenze che abilitano la crescita e lo sviluppo del singolo e della sua comunità. Quando questa capacità di sviluppo è frenata per qualche fattore si parla di divario. Quando questo divario si manifesta rispetto a territori diversi si parla di divario territoriale. Ovviamente il superamento dei divari territoriali in istruzione è uno degli elementi su cui le politiche di governi, entità nazionali e sovranazionali si stanno impegnando in maniera importante da molto tempo, da prima del Covid, situazione che ha ampliato questi divari. E quindi oggi parleremo dell'importanza di supportare lo sviluppo di queste competenze e di colmare così questi divari per abilitare la crescita dei cittadini, dei singoli e dei loro territori. Ne parleremo a partire da un progetto, appunto, formazione sulle competenze di base, un progetto PON sviluppato nell'ambito dell'azione su divari territoriali che ha ospitato nella primavera informazione, ha accolto informazione circa 5.000 docenti e che sta attualmente avendo una seconda fase di formazione e diffusione in cui sono stati accolti più di 2.000 docenti.